Ciao a tutti ragazzi, come sapete non faccio un video così nero da un bel po' di tempo, ma il motivo è semplice, perché è notte fonda e io e Marie abbiamo trovato una cosa stranissima. I quest sono i slender, ha senso no? Beh io spiego perché. Sarà il motivo perché sono così tanto tossici con i bacon, visto che sono stati rimpiazzati con loro. Sarà il motivo anche per il loro pessimo stile, perché loro non sapevano, erano ancora nel 2017, quindi non è che hanno un brutto stile, però sono ancora bloccati un po' nel mondo. E terzo, sarà per il che vedono tutti i nabbi, e visto che avevano i tisks, sarà anche quello il motivo. Secondo me ci sono ancora dei slender che sono dei quest e stanno continuando la generazione e si moltiplicano di più. Ditemi se ha senso scrivendo nei commenti. Ciao!